Sì, è una misura in attuazione del programma nazionale Goal. La Regione Abruzzo sta andando speditamente verso la piena attuazione del PNRR dedicata proprio alla occupabilità. Tra le regioni italiane è quella che ha saputo raggiungere un ottimo target di percentuali proprio per la costituzione dei patti per il lavoro. Ora dobbiamo proseguire, siamo a metà programmazione, cercando di portare a casa il più possibile la piena formazione che è poi destinata all'occupabilità dei lavoratori, sapendo che i centri per l'impiego sono i veri protagonisti di questa nuova visione che l'Europa con il PNRR dà al mercato del lavoro. La misura 5 è importantissima perché riguarda i lavoratori in fase di transizione occupazionale e che a differenza delle altre misure hanno comunque un contratto di lavoro. Un contratto di lavoro che è assistito dal punto di vista salariale da un'integrazione, pensata alla cassa integrazione ordinaria o straordinaria. E serve a fare che cosa? A preparare questi lavoratori verso un nuovo percorso lavorativo che può avvenire nella stessa azienda da cui dipendono in quel momento o verso nuove aziende. La misura del patto 5 si caratterizza per il protagonismo che avranno sia le aziende, quindi i datori di lavoro che chiedono nuova formazione, e gli organismi di formazione. in una situazione con il centro di lavoro che ci permetterà di... questa misura, gol 5, diciamo che si inserisce in un contesto ben più ampio, parliamo di circa 650 mila euro, ma è solo un avviso. Poi per ogni misura c'è un avviso. Si rivolge in particolare alle situazioni di crisi aziendali che riguardano quindi problemi collettivi, cioè non singoli lavoratori, ma lavori che in gruppo, facendo parte di aziende che stanno in crisi, stanno subendo una difficoltà e addirittura un rischio di perdita del proprio posto di lavoro. Quindi questi fondi serviranno a fare in modo che l'azienda possa offrire percorsi anche di riqualificazione professionale, di aggiornamento tecnologico, insomma di trasformazione anche dei processi produttivi che rendano di nuovo compatibili la presenza e il lavoro di queste donne, di questi uomini, dei loro impiegati con gli obiettivi dell'azienda. Più in generale con il programma Gol, noi siamo impegnati adesso a dare concretezza, siamo al punto di svolta dopo la progettazione, la programmazione, la presa di contatto e su questo l'assessore ha relazionato come l'Abruzzo abbia pienamente raggiunto tutti gli obiettivi che erano stati posti dal PNRR e adesso però viene il difficile, viene il momento in cui tutto questo bagaglio di lavoro messo in campo si deve trasformare in posti di lavoro, cioè in persone che o trovano lavoro per la prima volta, perché qua sono diverse misure, si rivolgono ai giovani che cercano lavoro per la prima volta, si rivolge invece a quelli più adulti e più anziani che magari sono stati espulsi dai cicli produttivi per mancanza di competenze o di aggiornamento professionale e così via. Quindi attraverso diversi segmenti e diverse misure si cerca di dare risposte a tutte le categorie di persone che cercano lavoro, che devono migliorare le loro competenze per mantenere il lavoro che hanno e su questo poi verranno misurati i risultati veri e definitivi di questo investimento del PNRR. Presidente, la parola chiave è formazione? Certamente, gli organismi di formazione sono l'anello di congiunzione tra la Regione e i lavoratori che sono i beneficiari di questo progetto. La Regione non può attuarli direttamente, non abbiamo le scuole regionali e quindi con gli enti di formazione convenzionati attiviamo questi programmi. Il compio della Regione, il lavoro che sta facendo anche l'assessore Magnacca in questi mesi è quello di capire quali sono poi davvero le figure professionali che il mercato cerca, che le aziende vogliono, quindi sta facendo una revisione complessiva un po' di tutti i corsi di formazione in campo perché magari ci sono corsi di formazione che formano persone per mestieri che non vengono ricercati o di cui non c'è particolare bisogno, mentre andando nelle aziende troviamo delle richieste magari su alcune figure, su alcune competenze, su alcune qualifiche molto ripetitive e questo ci fa capire che lì c'è bisogno di fare una formazione specifica perché produce poi un risultato molto elevato in termini di assunzione del posto di lavoro. Se sulla Magnacca andiamo proprio nello specifico, il mercato del lavoro abruzzese cosa richiede? Il mercato dell'occupazione abruzzese rispecchia molto bene la capacità delle nostre aziende di interpretare i segni del tempo, richiedono soprattutto lavoratori schillati nel campo delle competenze digitali per quello che riguarda le aziende che hanno cicli altamente tecnologici e lavoratori in grado di poter leggere le macchine a controllo numerico, tornitori, saldatori, insomma è tutto quello che è il mondo legato all'automotive, ma è fondamentale insistere anche sulle competenze che derivano dai lavori green perché molte aziende stanno puntando sulla riconversione dei loro cicli, in cicli che siano rispettosi della transizione ecologica e quindi abbiamo necessità e questa è la vera buona notizia ci saranno lavoratori, lavori che andranno man mano a morire ma nuovi lavori si affacciano all'orizzonte questo è stato compreso anche dai lavoratori abruzzesi che in un recente, lo dicevamo con il Presidente l'altro giorno in una recente analisi dell'Ocse si è evidenziato come l'Abruzzo tra le regioni italiane alla maggiore percentuale di lavoratori che si stanno inserendo nel mercato del green